Mi sento benissimo. Prima quando mi sono qualificato ho guardato il cielo e mi sono messo a piangere perché è la mia prima finale ai campionati mondiali. Poi insomma qui è bellissimo e quindi è un coronamento di un sogno che ho rincorso per tanti anni quindi da Berlino a Daegu a oggi e a 32 anni fare una finale mondiale per me vuol dire tanto.